Sono novità che riguardano naturalmente i lavoratori di attiva che potranno avere la stabilizzazione. Per ora ne sono 48, quindi 45 già previsti nel piano e 3 che andranno a sostituire delle persone che nel frattempo sono andate in pensione. È una novità importante perché è una novità che fa seguito a quel famoso concorso in cui riconoscevamo le professionalità di quanti già precedentemente avevano lavorato in aziende simili a queste, assunti nel frattempo con contratti a tempo determinato e adesso diventano contratti a tempo indeterminato. Questo è un fatto importante perché c'era stato un decreto di attuazione di un famoso decreto Maria che aveva bloccato questa possibilità per cui nel frattempo li avevamo presi a tempo determinato. Adesso li possiamo stabilizzare con un risparmio per quanto riguarda attiva di 90.000 euro all'anno di IRAP ma anche con un legame che si solidifica tra i lavoratori che trovano una stabilità di vita familiare e la società del Comune di Pescara. Con le novità di oggi si apre una nuova fase per attiva? Beh sì, si apre una nuova fase perché chiudiamo o iniziamo a chiudere un percorso che si era aperto qualche tempo fa e che evidentemente lasciava diverse incognite lungo la strada. Adesso potremmo contare su un numero di lavoratori a tempo indeterminato all'interno della struttura che potranno essere assolutamente degli elementi su cui contare per il futuro. Quindi usciamo da una fase abbastanza travagliata di precarizzazione del lavoro in attiva e ci avviamo a essere una società con il suo organico, con i suoi dipendenti fissi su cui si può investire in termini di formazione, di miglioramento del servizio e quant'altro e quindi è una fase sicuramente positiva che si apre.